Per la categoria 70 kg, perciò si sale un pochino per quanto riguarda il peso, sempre 3 round da 3 minuti, per l'angolo blu, per il team Nicosia, Stefano Maggi, eccolo qui, Stefano Maggi, angolo rosso, per il team Cresci, Nazar Tulipa, angolo rosso, per il team Nicosia, 70 kg Sì, sotto collegato, eccolo, tira, 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 tira sul bacino, tira il braccio, tira il braccio, tira il braccio, tira la testa, piano piano, forte colpi a sinistra, forte colpi a sinistra E' bene, posiziona bene, si riesce a passare l'altra gamba, e adesso sul bacino Resisti, 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 resisti con ilneo 2 3 2 1 2 1 2 3 2 Vince l'angolo blu per Chignottina, Stefano Maggi!